Ecco un nuovo capitolo per la storia delle aree di servizio di Galdo. Cambiano le amministrazioni al comune di Lauria, ma si parla sempre di emergenza. Lunedì 13 febbraio sarà sciopero dei lavoratori e non tarda ad arrivare il commento del sindaco Lamboglia. Prendiamo atto con forte irritazione della persistenza di una situazione di stallo in merito alla questione della salvaguardia dei livelli occupazionali connessa alla realizzazione delle nuove stazioni di servizio a Galdo che ha costretto i sindacati a proclamare per il prossimo lunedì uno sciopero dei lavoratori. Lo stesso giorno, dice Lamboglia, la Regione Basilicata ha però convocato un summit per capire e cercare ancora una volta le soluzioni. L'amministrazione dunque si schiera con forza dalla parte dell'iniziativa promossa dai sindacati per quella che è diventata una situazione insostenibile per tutti i soggetti coinvolti da tori di lavoro e indotto, ma soprattutto per la manovalanza che non percepisce lo stipendio da quasi un anno e non ha al momento nessuna seria prospettiva legata al mantenimento del proprio posto di lavoro. L'ente comunale rivolge un giudizio molto critico nei confronti di Anas che dicono dal municipio sta venendo meno da troppo tempo agli impegni presi a partire dalla gestione della fase transitoria, ignorando una situazione di disagio da essa stessa creata e venendo meno così alle proprie responsabilità nei confronti di un territorio che pur ha fatto in questi anni enormi sacrifici. Eppure ben altro atteggiamento, dice Lamboglia, infine abbiamo avuto noi istituzioni quando si è trattato di venire incontro alle esigenze degli altri interlocutori come Anas.